Di spazi verdi, giardinetti e parchi più o meno grandi che versano in agonizzanti condizioni appesi tra il degrado, l'incuria e il vandalismo degli esseri umani, a Fano ne abbiamo visti e mostrati diversi con le nostre immagini, puntualmente stimolati da abitanti e cittadini indignati per una condizione indegna appunto per la terza città delle Marche. Questa volta la solerte segnalazione ci arriva da uno dei quartieri più popolosi di Fano, Sant'Orso, dove c'è un bel polmone verde, una lingua di terra tra la superstrada e le palazzine di recente costruzione. Panchine, alberi, ampio verde ben illuminato con anche un bel campo polifunzionale di basket o da pallavolo. Ma ahimè in un'ipotetica e triste classifica del degrado urbano questo posto si attesterebbe sicuramente tra le prime posizioni. Mattonelle divelte mancanti in ampi spazi, finite chissà dove, profonde e pericolose buche nel selciato che rendono pericoloso per un anziano o una mamma con carrozzina il passarci sopra. Panchine anche il cui sedersi, oltre che difficoltoso, rappresenterebbe una minaccia per la propria salute se non abbiamo a portata di mano un'antitetanica, visto che ormai il legno di cui probabilmente erano composte per loro è solo un triste ricordo. E quello che è rimasto sembra assomigliare di più al fasciame di una vecchia nave spiaggiata, divorata ormai inesorabilmente dalla salsedine. A tutto questo poi aggiungiamo la solita demenziale mano dell'uomo o dei gruppetti di adolescenti più o meno annoiati e incuranti del bene pubblico. È un peccato, ecco, dispiace. È un peccato perché potrebbe essere un bello spazio verde per tutti gli abitanti qui del quartiere. Certo, certo. Purtroppo siamo stati tutti giovani, questi ragazzi fanno di questo e altro. Ogni tanto veniamo noi grandi e di ragazzi, tanto va a finire che paghiamo noi come cittadini. È un po' che è così questo parchetto. Questo diciamo che 7-8 anni a queste parti. A microfoni spenti i residenti ci dicono che i suddetti inquieti frequentatori sono i soliti noti, forse anche gli stessi che si sfogano con la casetta di libri aperta nella piazzetta. Si sono anche ricavati, pensate, uno spazio al riparo dagli occhi indiscreti tra le frasche, a ridosso della superstrada dove dare sfogo alle loro pessime abitudini in fatto di fumo. Non c'è dato sapere di che tipologia, ma lasciamo all'immaginazione di chi ci ascolta fare le dovute deduzioni e di alco, viste anche le evidenti e inequivocabili tracce abbandonate e lasciate sul posto. Possibile che il quartiere, considerato dagli amministratori come la punta di diamante della mobilità sostenibile e a misura di bambino e di pedone, oggetto anche di un piano di sviluppo ecosostenibile, in un ipotetico, futuribile esempio di Fano del 2030, il suo polmone verde, già esistente, tra l'altro sia lasciato e abbandonato al suo destino? Andare a scuola da soli va bene sì, ma al parco no però perché ci si fa male. Vi sembra tutto questo a misura di bambino o di pedone? Lasciamo a voi le dovute considerazioni.